Sanremo 2017, oggi siamo alla seconda puntata di questo piccolo veloce tutorial su come si suonano alcuni pezzi che sono andati in onda in queste sere a Sanremo nei video precedenti abbiamo visto tre canzoni inerenti alla prima serata adesso vediamo altre tre canzoni inerenti alla seconda serata serata che si è svolta ieri sera, ossia mercoledì, che oggi è più lì, sì, perfetto i pezzi che ho buttato giù in maniera molto veloce sono stati Rage e Giulia Luzzi con il pezzo Togliamoci la voglia, Chiara Nessun posto è casa mia e Michele Zarrillo Mani nelle mani questi sono i tre pezzi che ho portato alla luce dal punto di vista di accordi faccio una piccola precisazione, questi pezzi sono buttati giù in maniera molto veloce sono delle bozze, di conseguenza servono solo per capire quali sono gli accordi come poter suonare velocemente il pezzo senza pretese di arrangiamento senza pretese di giudizio per far vedere se è una canzone più facile e più difficile assolutamente no, è una cosa puramente ludica e diciamo fatta con la massima semplicità e con il fine di divertire e aiutare chi vuole imparare a suonare i pezzi di Sanremo 2017 ok? Buon divertimento e dateci sotto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!